Musica Sindaco, a proposito di studi di fattibilità, in America e in West Virginia stanno realizzando non un ospedale, nemmeno un campus. Il futuro della sanità secondo loro che non prevede gli ospedali così come li immaginiamo noi e fra vent'anni, dicono gli studiosi, gli ingegneri americani, la sanità non sarà più negli ospedali. Allora di cosa stiamo parlando? Sì, devo dire che proprio oggi tra l'altro non è stato né commissionato da me né da nessun altro mio adepto. Io leggevo perché mi è stato cortesemente inviato un intervento che è stato fatto da un sindacalista che io conosco da tantissimi anni e non vedevo da tanto tempo, proprio su questa vicenda che riguarda la sanità nel nostro contesto e questa ipotesi di costruzione di un nuovo ospedale. E la parte più importante di queste considerazioni, devo dire quanto mai pertinenti punto per punto, riguarda proprio questo aspetto. Cioè in un momento in cui si parla sempre più di deospedalizzazione, di particolare necessità di attenzione e sensibilità verso altri servizi che devono essere presenti sul territorio per costruire una vera rete sanitaria e così parla un po' in maniera fuori luogo e avvanvera di un nuovo ospedale. Invece di pensare da un lato a riqualificare e sostenere le realtà esistenti e quindi Ostuni e Fasano e dall'altro a destinare risorse e proprio attenzione a questa rete di servizi che vanno dagli anziani ai disabili ai più piccoli e bisognosi per poter dare una risposta alle esigenze che i cittadini manifestano quotidianamente. Quindi questo come considerazione di carattere generale che mi sento di sottoscrivere oltre a tutte le ragioni che ci portano a difendere da un lato dalla disattenzione, dalla distrazione ed è una sorta di subdolo e nascosto processo di depauperamento di risorse umane e strumentali nei confronti della realtà ospedaliera di Ostuni che penso sia condiviso dalla stragrande maggioranza della comunità per cui ho nessun timore ad assumere posizioni anche di forte contrasto con gli organi di governo regionali che per certi versi devo ritenere avventurose e molto approssimative per cui io mi auguro che ci possano essere realtà nelle quali leggi conferenza dei sindaci che esprime pareri qualificanti sui bilanci e sulle scelte strategiche dell'AS e comunque nella veste di comunità, di enti locali che hanno un diritto di cittadinanza compiuti ad essere coinvolte a partecipare ai processi di scelta strategici che fino a questo momento devo dire sono assolutamente inesistenti e latitanti. Quindi questo è il dato di fatto che io vorrei chiarire a tutti quanti i cittadini. In un periodo di vacche magre durante i quali noi ogni giorno assistiamo a tagli nei confronti delle istituzioni e a problemi che vengono creati ai cittadini. Un settore come quello della sanità che sicuramente non è un fiore all'occhiello della regione noi dobbiamo innanzitutto spiegare alle comunità che a parità di condizioni possiamo offrire dei servizi e migliorarli e non fare scelte solamente perché qualcuno in questa regione vuole passare alla storia non so se ha la storia quella positiva o quella negativa, facendosi promotore di una delle poesie che caratterizzano l'antologia di questa regione. Noi invece vogliamo cercare di dare soluzioni concrete non dando esempi di come non si amministra. Sono stati stanziati dei fondi pubblici per migliorare e ampliare l'ospedale di Ostuni. Dobbiamo dare attuazione agli stessi e non cercare di farli sparire e soprattutto fare atti che siano in coerenza o in sintonia con il percorso avviato. Quindi riqualifichiamo e miglioriamo la struttura di Ostuni, copriamo i posti vacanti nei reparti che sono stati lasciati e abbandonati, completiamo le opere che vanno troppo a rilento, mettiamo le strutture necessarie. Dopodiché se la regione Puglia ha i mezzi finanziari e gli strumenti per poter fare un nuovo ospedale che così come ipotizzato non è assolutamente un ospedale di eccellenza ma è solamente la sommatoria di quello di Ostuni e di Fasano, lo faccio pure. Nessuno può intercettare o mettere ostacoli a questo procedimento. Ma per fare questo non devono assolutamente abbandonare per anni quello che noi abbiamo e soprattutto non dedicare fondi a tutta quella rete di servizi sanitari che è indispensabile ai cittadini. Sono sereno e tranquillo, ripeto, su questa strada perché so di interpretare la volontà della gente libera, di chi ha a cuore le sorti di una comunità e di chi non ragiona solo per partito preso per interesse di bottega o di qualche forza politica o peggio di qualche potentato che si annida in questi contesti. Sempre abbiamo manifestato questa nostra posizione che non è una posizione contro Fasano, per essere assolutamente chiari, ma è una posizione ragionevole proprio in un periodo in cui, come dire, siamo chiamati tutti a fare dei sacrifici. Mi sembra irragionevole pensare di bloccare dei lavori già finanziati per iniziare una nuova avventura che, considerati i tempi delle opere pubbliche, considerata l'assoluta grande efficacia di questa regione, consentimi, non so quando questa avventura potrebbe concludersi e come, peraltro. E poi la cosa che salta agli occhi è che si parla di sanità in termini troppo e di edilizia senza considerare effettivamente le esigenze non solo pratiche ma anche morali dell'utenza, dei probabili ricoverati. Questo toglie un pochino di fascino, se vogliamo, alla situazione. Eppure, diceva il Sindaco, l'assessore Fiore sarebbe l'assessore deputato a presenziare in incontri di questo tipo e invece si parla solo e soltanto di opere pubbliche, ma della sanità con tutti i suoi problemi, con l'organico, con tutto il resto, se ne parla poco. Sì, ma la cosa più grave è che un Sindaco rappresenta un'intera comunità e un Sindaco rispetto non ai piani di fattibilità ma a quelli di prefattibilità dovrebbe poter dire la sua, anzi deve dire la sua. E quindi è assolutamente grave che la regione non abbia ritenuto di coinvolgere le amministrazioni locali, salvo sui giornali, perché sui giornali che abbiamo saputo, si è parlato, e che mai Fiore abbia avvertito, come dire, la sensibilità di venire anche in questa città, ma anche nella città di Fasano, a cercare insieme ai sindaci di Fasano e di Ostuni trovare una soluzione. E ti dirò di più, non solo i sindaci di Fasano e Ostuni, ma anche il Sindaco di Carovigno, il Sindaco di Cisternino, il Sindaco di Ceglie, il Sindaco di San Vito dei Normanni, perché certamente una struttura ospedaliera come quella di Ostuni serve un bacino d'utenza molto più ampio di quello del territorio della città di Ostuni e basta. Quindi è opportuno che si confronti con i sindaci, quindi con la politica, ma con chi rappresenta il territorio. Andare a rivendicare sui propri territori quello che si poteva fare in Consiglio regionale attraverso una legge non mi sembra corretto nei confronti dei cittadini. Io ho partecipato, prima ancora che si tenesse il Consiglio regionale per approvare la legge del piano di riordino, ad un altro Consiglio comunale ad Ostuni, dove giustamente si rivendicava un ospedale di qualità e si faceva la battaglia per non andare a chiudere determinati importanti e strategici reparti. E poi in Consiglio regionale il centro-sinistra ha avuto altri atteggiamenti. Questa è la realtà dei fatti, queste sono le leggi, non dobbiamo parlare sui fatti. Oggi, scusate la presunzione, ritengo che stiamo parlando del nulla, perché se si parla di edilizia sanitaria, io ritengo giusto che anche l'edilizia sanitaria deve avere il suo spazio, ma non in questo momento di crisi generale e di crisi non soltanto per la sanità ma di crisi politica. Leggiamo quotidianamente che Vendola forse non ha più una maggioranza o comunque ha una maggioranza frazionata e divisa e leggiamo quotidianamente che Vendola, il nostro Presidente della Regione, si preoccupa di andare a fare campagna elettorale altrove per legittimi suoi aspirazioni utilizzando la Puglia soltanto come trampolino di lancio. Parliamo di un ospedale che si dovrebbe fare. Io ritengo che prima di parlare nei consigli comunali, ed è giusto che si parli nei consigli comunali perché così come nella medicina, visto che parliamo di sanità, la prevenzione fa bene anche in politica, ma non c'è nessun atto formale che è arrivato nelle commissioni. Né nella commissione sanità né nella commissione lavori pubblici, figuriamoci in consiglio. Ed io personalmente ho chiesto al Presidente della commissione sanità quando ci sono stati gli articoli di stampa che hanno previsto la costruzione dell'ospedale Nord di convocare l'assessore ai lavori pubblici insieme all'assessore alla sanità perché è giusto andare a contemperare innanzitutto le esigenze del cittadino. Il cittadino deve essere al centro di questa sanità e contemperare le sue esigenze, non attraverso una stanza più bella che è pure utile, ma prima ancora il cittadino vuole sanità, buona sanità. Io credo che innanzitutto l'incontro di questa sera sia sostanzialmente, non dico inquinato, ma condizionato dai risentimenti a delle contrapposizioni politiche all'interno del Partito Democratico. È talmente chiaro che questo è il frutto di una lacerazione, lo dice la tempistica, lo dicono i toni che sono stati utilizzati, lo dice anche la farraginosità con la quale sostanzialmente si stanno senucleando, sviscerando alcune tematiche a mio avviso molto molto improvvisate. Motivo per cui io sto qui questa sera per un atto di cortesia che sicuramente dobbiamo fare ai confronti dell'istituzione, ai confronti del sindaco che mi ha invitato. C'è un aspetto che sicuramente dagli interventi di poco fa va sicuramente intercettato e preso molto in considerazione. Con la sanità non si può scherzare, noi non possiamo politicizzare la sanità. E se è vero, come è sicuramente vero quello a cui facevo riferimento, che ormai anche le strutture sanitarie debbono essere rivisitate rispetto al passato e avere una concezione del tutto diversa, una classe politica che si attorciglia intorno ai contorsionismi delle contrapposizioni, secondo me non solamente non avrà un futuro ma non avrà neanche un presente. È stato previsto un dibattito a livello dei consigli comunali di Ostuni, Cisternino e Fasano per deliberare una delibera di intendi, per vedere sulla domanda che era stata posta se era necessario, se era d'accordo a costruire questa struttura, non di eccellenza della zona nord ma un ospedale primario, se erano queste comunità d'accordo. Ci fu un dibattito, io ricordo in consiglio comunale, ero consigliere, stavo fra i banchi, fui uno dei pochi a sollevare, perché ero titubante su questa scelta, perché mi rendevo conto nella praticità che mi contraddistingue anche se sarebbe un'ottima occasione costruire una nuova struttura perché comunque è una fonte di ricchezza che viene attratta momentaneamente sul territorio però alla lunga mi preoccupavano già i primi segnali di economia fragile che si avvertivano su tutto il territorio nazionale ma essenzialmente anche internazionale e quindi ponevo la domanda se le somme ci fossero a disposizione, se le somme erano necessarie per consentire la edificazione di una struttura pubblica, badate bene, dico pubblica, allora questa occasione bisognava coglierla ma se le somme non fossero state necessarie e mi riferisco alle somme totalmente pubbliche e quindi bisognava cercare altre forme di cofinanziamento attingendo dal mercato del privato bisognava capirci bene perché delle due, una deve essere la soluzione, un privato che cofinanzia una struttura pubblica o trova un utile altrimenti questo non lo farebbe mai perché sarebbe non un imprenditore oculato e siccome si parlano di ingenti somme dove vengono coinvolti nella costruzione del business plan soprattutto le banche, se non ci sono dei dati di ritorno condabile che giustificano l'investimento iniziale non viene autorizzato l'investimento altrimenti sarebbe fallimentare, quindi se un investimento di natura finanziaria non ha un suo tornaconto, il tornaconto è dove lo troverebbe il privato in un'eventuale speculazione di altra natura o peggio come spesso è accaduto e ampiamente dimostrato nell'esperienza degli anni passati dove si sono cimentati a fare queste forme di procedure di finanziamento pubblico privato alla fine si è costruita una struttura che si è titolata come struttura pubblica ma che per 30-40 anni viene data in concessione al privato e quindi di fatti noi avremmo costruito una struttura privata Io nel settembre, non questo l'altro, appena pochi mesi investita dalla nuova carica esperienza regionale sono stato contattato dall'attuale assessore amato ai lavori pubblici che aveva avuto la delega per vedere di poter trovare il meccanismo e le procedure per la costruzione di questi tre ospedali che dovevano essere costruiti e sono previsti nel vecchio piano nelle tre province di Lecce una a Lecce, una nella provincia di Foggia se ricordo bene, un'altra in provincia di Brindisi lui mi pose la domanda se ero convinto oggi della realizzazione di questo manufatto io gli dissi che se ci sono le somme a disposizione interamente pubbliche penso che si può programmare fermo restando che quello che si è già avviato nella programmazione dell'ampliamento della struttura esistente di Ostuni e nella trasformazione delle altre due strutture quella dismesse di Cisternino perché necessitava degli investimenti per la trasformazione della struttura esistente perché comunque doveva offrire un servizio sanitario e anche in quella della struttura di Fasano che doveva offrire comunque dei servizi e quindi era necessario fare degli interventi all'interno della struttura per poi nel momento in cui si fosse concluso il percorso dell'edificando costruzione dell'ospedale nuovo tutta la struttura poteva già ampliamente collaudata e strutturata essere trasformata per offrire immediatamente i servizi perché ho detto questo? e glielo ho ribadito perché comunque per dare una sanità non è necessario solo una struttura necessitano tre elementi la struttura, le attrezzature e essenzialmente un organico preparato che dia fiducia ai cittadini altrimenti noi avremmo al danno la beffa dove aver costruito una struttura eccellente sotto il profilo delle strutture e anche delle attrezzature ma non avendo gli uomini idonei per poter governare questo servizio rischieremo di avere un danno alla beffa dicevo perché molti pazienti potevano andare o vanno verso altre strutture fuori regione e quindi con un aggravio di coste per le casse della sanità pugliese grazie a tutti Grazie a tutti